La Vagnese e Legnano La Vagnese accusa il colpo, non riesce a reagire e anzi prende il secondo vol questa volta. La formazione ospita tra una breccia a sinistra, il suggerimento per Gasparri è facile, così come è facile, è la doppietta dell'attaccante Lombardo per il 2-0 in appena 29 minuti. L'unica distrazione degli uomini di Lucio Brando costa caro a Legnano perché la difesa altissima permette ad Allucci di trovare lo spazio per involarsi verso la porta di Colnaghi e soprattutto di realizzare il gol che riapre la partita. La gara riaperta ma per poco perché in chiusura di tempo Cocuzza su punizione dai 18 metri sorprende Boschini sul suo palo e mette di nuovo in ghiaccio. Il risultato un 3-1 che rimane nella frappos perché è vero che a inizio ripresa la Vagnese va dal dischetto per una terra mentinare ma è anche vero che l'ex Savona Tripoli calcia clamorosamente a lato. È l'episodio che consegna tre punti a Legnano, non succede infatti più nulla eccezione fatta per la rete di buongiorno della Vagnese che però arriva quando ormai è sera. La gara è il 94 e la gara termina 2-3 per gli ospiti.